Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo showcase, non vi lascio senza Legends nemmeno per oggi. Dopo il video sulla mia prima win, finalmente, in Warzone, se ancora non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere, ecco a voi un mini showcase, diciamo, di Goku Super Saiyan 3 pur Zenkai 7, full soul boostato chiaramente, e trovo che sia uno dei personaggi top 3 del gioco, praticamente, va subito dietro a 18 Egoan, a mio modesto parere. Detto ciò, raga, non vi trattengo oltre, vi lascio al video che è stato preso dalla live di ieri sera, quindi se ancora non lo fate, seguitemi su Twitch. Vi chiedo, come al solito, un like sulla fiducia per il supporto e per concludere, se ancora non l'avete fatto, vi invito caldamente a premere su quel tasto iscriviti, posto proprio qua sotto, per non perdervi nemmeno un contenuto e per darmi una mano verso il raggiungimento dei 30.000 iscritti. Detto ciò, raga, vi lascio allo showcase. Sigla. Oh my god, namba bamba. No. Magikarp. Ha detto proprio Magikarp. Eccolo qua. All'opera, Albi. All'opera, Albi. E non Anto. Oh, te l'attancheggi, Vegettoz. Clashone. Impegniamo. Sì, 992. Potenza vera. Noice. Ok. No. Sì. Sì, sì, sì. Oh my god, namba, wamba, cacarotto. E gli facciamo fuori il motore di questo team. Bro, mi sa che devi trovare un modo per convertire l'acqua in benzina adesso. Ok, l'ultimo crit per Goku. Che poi ne perde le capacità. Sì, va bene. Ce la tankiamo. Ce la tankiamo. Yo. Ok, 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 ok. No problema, bro. Fammi un po' quello che ti pare, questo Vegeta. Fammi il cazzo che ti pare, questo Vegeta. Puoi anche lasciarmelo ora. Ok. Vegeta, guarda qua come si tirano due cazzotti belli assestati. A lezione di pugni. Con Goku pur. Spam, pam, pam. Gomitate, cinocchiate. Kamehameha in the face. E purtroppo muore alla fine. Ma vabbè. Il suo l'ha fatto. Stava anche tankando come un porco comunque. Ok. Ok, ok. E GG. Prossimo mash. GG, 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 GG. Boh. Ok. Ah, tardi. Tardi, 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 tardi. Ok. Puoi fermarti. Oh, baby, 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 baby. Baby, baby, baby. Ok. Va bene, va bene, va bene Rischio enorme, raga Qua me lo rascia Ho paura di sì No, bene Ah, stupido me Ok, 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 ok Può essere qualsiasi cosa Ed è la Blast, purtroppo Il Rosso Godki Quarto anniversario, raga Non prima Ok Devo lasciarglielo Per forza Ok, 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 ok Sì, raga, gorescia Altro che mille euro Ma altro che mille euro, raga No, non poteva arrivare in tempo No Ti piglio, ti piglio, ti piglio Ok No Sì Easy win Easy win Easy no Ma win sì Raga, non litigate su quanti soldi spende Goresh Non saranno mai abbastanza Non saranno mai abbastanza Ok Ok Tankiamo tutto Toppone mio caro Puoi muoverti Fare qualcosa Vecchietta Ok Questa è la prima strike deal Che fa un sacco male Ah no, l'SM in teoria Oh Bro Son partito Io te lo dico E mi hai anche fatto un po' girarugazze Quindi Torni in vita Ma con pochi 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 Veramente Ok 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 Giroz Mmm Nice Cento di chi ha l'ingresso in campo Ma di che Cosa stiamo parlando Oh my gosh Eh sì Eh forfe sì Raga è sbagliato sto personaggio È sbagliatissimo sto personaggio Sbagliatissimo Sì sì Da 10 è passata tipo 100 Perché lui se lo recupera Vegeta glielo fa recuperare Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oh Veramente ha portato il pur Really? Ok Rapido 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 Ah ok Ho pensato troppo Stupidamente pensavo che Switchasse Ma effettivamente Vegeta Non è che ti induce troppo Può switchare Ok Non hai il rising Vero? No Ok 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 No Devo salvarlo Non bene Non bene E io lo rusho Perfetto Vodos Mi sta più che bene fargliela fuori Godkup pur Danni pazzurdi No Mancare uno Zenkai Comunque farebbe Molto 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 Bene È un tank Scomodo 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 Raga È oggi Oggi La warzonata Bro Così Dal nulla 44 di costo Le strike Per colpa di sto Goku Infame Raga È stupitissimo È mega Mega Stupido Smettila di importunarmi Ma veramente Cioè tra tutti quelli che potevi farmi fuori con sto trick Mi ammazzi Vegeta Va bene bro Va benissimo bro È un cancro raga Goku pure È un mega cancro Vai Goku Ah drop Infamous Uh Oh Va all in Nice Guardate quanto è scomodo raga Sto personaggio è incredibile È incredibile raga È scomodissimo A Zenkai farebbe paura Farebbe volare bestemmie Ce la facciamo Goku Meno di un milioncino bro Che ne dici Che ne dici No Va bene Ok il Vanish Se l'è usato E GG Ragazzi Ho sudato anche troppo Per aver contro quel Goku lì Se c'è come Metal Cura Poi ne riparliamo Effettivamente sì Ma in realtà raga Cioè Quel Goku lì Ora con me Ora è peggio di Metal Cura A mio parere Grazie a tutti